Ciao a tutti, io sono Emanuele Vacari, sono un consulente SEO freelance e sono stato invitato a partecipare al SMXL nella cornice del Hot SEO 2016. Vorrei spiegarvi perché da un anno e mezzo non faccio più la link building in modo classico e come riesco a ottenere lo stesso risultati per i miei progetti e per i miei clienti. Vi parlerò della SEO del dipende, perché dipende da query a query, perché con Google che vuole diventare sempre più simile, vuole cercare di avere il metodo di giudizio di un essere umano, dobbiamo per forza farci determinate domande e cercare di raggiungere i risultati lavorando sulla rilevanza. Insomma tanta carne al fuoco, io vi aspetto, spero di trovarvi belli carichi, sarò in compagnia di un mostro sacro della SEO, che invece vi parlerà di quando la SEO è già andata molto male, da quel che ho capito. E niente, vi aspetto con impazienza, ci vediamo a Milano. Ciao a tutti!